Immaginatevi un luogo che sia a tre passi dal mare e ad un passo da cime alte oltre duemila metri. Un posto in cui si trovano grotte che furono delle antiche dimore per l'uomo primitivo, piante rarissime e caverne di pietra nera. In una parola Triora. Triora non è solo un borgo prezioso ed interessante ma è un territorio in cui il flusso dei secoli pur cambiando molte cose ha lasciato intatto un nucleo di autenticità che non tarderete a scoprire semplicemente passeggiando dentro e fuori il paese. Prendete il pane ad esempio. Buongiorno. Buongiorno. È vero che me le vende due pagnotte di Triora? Certamente. Mi hanno detto che una volta questo pane non si poteva cuocere in casa. Si preferiva portarlo al forno comunale per paura che magari prendesse fuoco la cucina. Siccome c'era il forno del paese lo portavano lì e si cuoceva in questo grande forno che c'è ancora adesso. C'è una piccola ambientazione dove si può vedere come era il forno una volta. È vero che me le le due pagnotte. Ed ecco il vecchio forno, un antro scuro, un maricolmo di ogni bontà. La forma tonda di questo pane sarebbe piaciuta al grande Piero Camporesi perché ricorda gli ancestrali omaggi che le popolazioni facevano al Dio Sole, fonte di ogni vita. E adesso che ci siamo ben dotati quanto al Sole possiamo entrare nella penombra. Qui a Triora siete circondati da un ambiente che aspetta solo di essere scoperto. Ne si può dimenticare che Triora è il paese in cui fu celebrato un famosissimo processo alle streghe. La cabotina nel secolo XVI credeva sia il luogo delle streghe. Se avrete voglia di conoscerne la storia, anche grazie agli ottimi musei che potrete visitare, questa vicenda vi farà toccare le abissali ed oscure profondità dell'animo umano e la sua ambivalente capacità di mischiare la tragedia con il comico. Che si trasformava in animali, uccelli, gatti eccetera. Andava lì poi miagolava e disturbava. Una sera uno stufato gli ha tirato una pietra. Il giorno dopo questa donna aveva il braccio e tutto. La dimostrazione. Hanno capito che era proprio lei. Taddeo de Senis, Pinsit, Oc Opus, 1397. Bisognava almeno accennare al grande patrimonio artistico che Triora possiede. Per dirvi l'importanza di questo quadro a livello popolare sappiate che fino a non molti anni fa qui si consigliava alle neomamme di non portare fuori i bimbi prima del battesimo perché non erano protetti contro il malocchio. In questo borgo, come nelle sue frazioni, si è consolidata anche una cultura gastronomica ampia e variegata che, meglio di tante parole, saprà raccontarvi storie quasi infinite. Un esempio su tutti, il bruzzo. Dalla ricotta si ottiene proprio questo formaggio molto cremoso, molto morbido, ma dà il sapore abbastanza intenso proprio perché viene lavorato in una determinata maniera. Viene fatta andare, diciamo, a male in maniera comunque controllata in modo che abbia un certo sapore piccante anche se non viene messo né pepe, né peperoncino, né alcol. Cioè proprio non viene aggiunto nessun tipo di aroma per dargli questo carattere un pochettino brusco, diciamo. In tema culinario concludiamo con la frazione di Cetta, con un solo piccolo episodio dei molti che vi racconteranno se venite da queste parti. O se altrimenti è pulente, sì, pulente. Quando c'eravamo, quando c'eravamo a lavorare, si feceva pulente, no? Perché adesso la gente dice anche ora in tempo da pulente, no? Ma non sono super cosa si dice, no? Perché a pulente, a quelli tempi bisognava girare la dure. Alla volte se non c'eravamo, ti devia essere in campagna. Alla volte non poteva fare pulente. Invece quando il tempo era brutto che c'eravamo, è quelli che le femmine si metteva in caia e poteva fare pulente. Grazie.